volete sapere una cosa divertente in questo video ho sbagliato di nuovo la risoluzione di uscita del file di registrazione quindi al posto di averlo 1920x1080 beh ho un 1920x360 il che è molto particolare infatti la registrazione era super strecciata fatta questa promessa vi dico che è solo per i primi 4 minuti e 30 se vi fa talmente schifo la risoluzione pixelata beh potete schippare nulla ve lo vieta e ora vi lascio al video buona visione ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video di minecraft vanilla e se ve lo state chiedendo sì siamo senza skin perché non ne ho la più palida idea probabilmente il lunar client ha qualche problemino la scorsa volta avevamo realizzato la nostra piscina e oggi è tempo di andare a mettere qualche altra foglia ma prima una bella dormita non ce la toglie nessuno allora direi di andare a posizionare le nostre foglie direttamente su questo bordino della piscina in questo modo gli diamo anche un perimetro e poi le nostre foglie andrei a posizionarle anche lungo la linea dell'acqua leviamo anche questi due blocchettini e andiamo a metterci di nuovo i brick e direi che è anche arrivato il tempo di finire la nostra scala e voilà scaletta quasi finita dobbiamo solo inserire i blocchi all'interno eccoci qua finalmente è terminata nei commenti ragazzi scrivetemi se la clay scura vi può piacere qui davanti o se dobbiamo utilizzare un altro blocco e ora ragazzi è tempo di modificare questa cavolo di parete ora ragazzuoli siccome dovrà essere una villa rispettabile dobbiamo andare a chiudere queste pareti qui e andare a fare una sorta di garage perché ogni villa che si rispetti deve avere il suo garage certo non abbiamo una macchina in minecraft però anche la nostra villa dovrà avere il suo garage ma cosa più importante finalmente utilizzeremo quei dannati blocchi di ferro la mia idea era appunto di fare così semplicemente con il ferro in modo da creare diciamo una sottospecie di gate in ferro e a sto punto porterei anche più avanti la legna in questo modo e successivamente andiamo a mettere dei bottoni che sarebbero tipo delle finestrelle e poi sopra avremo il nostro quarzo eccoci qua e questo sarà il nostro garage e andiamo a mettere questi blocchi di argilla scura così riprendiamo anche l'entrata ragazzi il pavimento andrei a farlo in slab così recuperiamo sia materiali che ne usiamo meno e anche superficie nel piano sotto sto provando un attimo a fare un effetto con le scale che secondo me potrebbe essere interessante da vedere piuttosto di utilizzare il vetro magari per fare il parapetto anche se il vetro alla fine lo utilizzeremo lo stesso per fare le vetrate andiamo a vedere da lontano come è venuto e secondo me comunque ci può stare per un parapetto non è brutto come effetto fatemi sapere se vi piace nei commenti in questo modo queste vetrate possiamo andare ad utilizzarle in questi punti e magari perché no apriamo anche una piccola finestrella qui così anche il garage ha un po di luce in realtà ragazzi andrei a levare anche il pavimento all'interno del garage che sicuramente non potrà essere in legno essendo che ci dovrà stare ipoteticamente la nostra macchina quindi andiamo a levarlo magari lo allunghiamo ancora un po ad esempio di due blocchi e poi andrei a farci magari la porta e davanti al legno andiamo a mettere i quartz pillar e poi a questo punto riutilizzerai il ferro così riprendiamo la porta davanti ora direi di tener chiuso fino all'altezza pilastro e poi aprire con due belle finestre un po di vetro anche qui e anche questa parte della villa è fatta nel mentre era venuto a farci visita però ha cambiato idea a questo punto direi di tenere lo stesso pattern anche da questo lato e via di vetro che andiamo a fare le nostre cornici alle finestre sempre con i blocchi di jungle e poi altro vetro sempre dello stesso colore così manteniamo l'effetto moderno che è quello che vogliamo e direi che ora la nostra villa sta veramente iniziando a prendere forma qua sopra dato che abbiamo la vista sul mare andiamo a fare una mega vetratona anche qui sopra le scale un altro pezzo di vetro che poi questo qui continuerà verso l'alto quest'angolo andrei a chiuderlo in questo modo così sembra che sia finito e direi che ora l'effetto è molto meglio per quanto riguarda la chiusura del tetto andiamo ad utilizzare delle slab in questo modo vediamo anche un po di spessore al nostro tetto e voilà mentre all'interno sempre con delle slab ma posizionate nel blocco sopra e direi che l'effetto che otteniamo è veramente stupendo andrei giusto a togliere questi blocchettini di legno e andrei a costruire una mega vetratona in questo modo così diamo ancora più luce alla nostra villa che dovrà essere molto luminosa andiamo ad aggiungere anche qualche sealantern nascosta in questo modo sotto alle foglie così la nostra iguola sarà ben illuminata e non spawneranno mob a darci fastidio allora ragazzi come prima cosa come vedete è tornata la nostra skin ma mi dispiace ma ho sbagliato la grandezza del video ma questo è un altro discorso ormai l'ho fatto quindi non possiamo tornare indietro però mentre ero off camera nel mentre ho finito anche la pavimentazione in legno come potete vedere e l'unica cosa che mi mancava era finire di mettere diciamo il bordino della finestra su questi blocchi ora qui dietro potremmo anche lasciarlo completamente chiuso però sarebbe un attimo da vedere con l'insieme poi anche della parte sopra ovviamente avevo dimenticato le shader ma adesso le abbiamo rimesse allora stavo un attimo finendo il perimetro infatti l'ho allungato di là e devo dire che come effetto non mi dispiace l'unico problema forse che possiamo andare a incontrare è una volta arrivati sul bordo che ha lo stesso problema anche questa parte qui però una volta arrivati in fondo beh come farlo è il vero problema perché è chiaro che debba uscire altrimenti non ha senso però secondo me è un problema che è abbastanza sorpassabile infatti basterà semplicemente riportare tutta la cornice intorno alla villa ora direi di andare a sfruttare altro legno della giungla da posizionare in questo punto in modo da fare un piccolo stacco con il resto della parete e andare a creare una porta che è letteralmente la porta dell'esterno e poi direi di fare anche un bel giro di ricognizione a vedere come viene devo dire che non mi fa impazzire sincero quindi andrei a levarla teniamo il quarzo a sto punto volevo dare un piccolo stacco per la porta però non mi sta facendo impazzire forse possiamo andare a lavorare un attimino sul lato centrale della nostra villa leviamo tutto il quarzo che abbiamo messo e lo andiamo a posizionare da questo lato e qui facciamo una parte che è completamente scura quindi andiamo a prendere poi della clay scura e andiamo a ricostruirla così abbiamo così abbiamo questa sottospecie di avvolgimento scuro che comunque dà un po di stacco e c'è comunque il davanti che abbiamo qui sotto alle scale che sale e che poi scende dal lato opposto qui andiamo a mettere gli ultimi due pilastrini che mi segnano anche le varie aperture e ora una bella dormita oh ma guardate abbiamo un nuovo piccolo amico qui sotto bravo tieni d'occhio i villager non vorrei mai che non lavorassero mentre io non ci sono ecco la poca terracotta che sono riuscito a recuperare dal mio amico villager che è un po tirchio perché non me ne dà abbastanza proviamo a definire un attimino questa parte come idea secondo me può funzionare andrei a fare anche un po di aiuola da questa parte lungo la parete e ovviamente anche le sue trap door mentre da qui sotto ovviamente non possiamo lasciarla in terra quindi dovremmo andare a metterci qualche altro blocco e stavo pensando in realtà magari a degli stone brick che non ci azzeccano assolutamente nulla però è comunque uno stacco importante e dato che abbiamo usato il legno di giungla direi di posizionare delle porte in jungle e qua sopra dato che ci siamo degli scalini così da dare ancora più profondità una cosa del genere ci piace e va bene ragazzi con la mia villa alle spalle io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video ciao